Musica Doveva insediarsi oggi il Consiglio regionale della Calabria con la prima seduta ma l'insediamento è stato rinviato al 7 gennaio prossimo. Su questo è successa un po' la bagarre in tutta la Calabria perché pare che sia stato richiesto questo sdrittamento dai rappresentanti di Forza Italia ma sei rappresentanti di Forza Italia hanno firmato un altro documento che dicono no a questo rinvio. Secondo appunto questi il rinvio del Consiglio regionale sarebbe stato chiesto dall'ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Calabria mentre i consiglieri Tallini, Orso Marso, Salerno, Graziano, Mangiavalori e Cannizzaro, Compressa, Iole Santelli non sono d'accordo con Ennio Morrone, l'ex capogruppo che avrebbe chiesto questo rinvio. E' successo un po' di bagarre ma resta il fatto che a distanza ormai di più di un mese, l'elezione ve lo ricorderete per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria si sono tenute lo scorso 23 di novembre, a distanza di un mese non abbiamo ancora né la giunta né c'è stato l'insediamento del Consiglio regionale, la giunta, la legge parla chiaro, la giunta da dieci giorni al Presidente del Consiglio regionale per indicare i nomi della giunta, Mario Oliverio che è stato eletto Presidente della giunta regionale non ha ancora provveduto a nominare gli assessori, da più tempo sta dicendo che intende nominare tutti gli assessori esterni, che nessuno degli eletti in Consiglio regionale verrà nominato e per questo ha bisogno di una modifica della legge perché l'attuale legge prevede che gli assessori siano tre interni, tre eletti e tre scelti al di fuori del Consiglio regionale della Calabria. Quindi vuole modificare questa legge, ammesso tra le prime questioni che chiederà il Consiglio c'è quella appunto di modificare la legge sulla formazione dell'aggiunta. Nei primi giorni dopo le elezioni si era parlata anche di una possibilità di fare un'aggiunta leggera, nominare i tre esterni in attesa che la legge venga modificata e se possa completare, se possa avviare lì un iter diverso per la nomina degli assessori. Sta di fatto però appunto che a distanza di un mese con tutti i problemi che la Calabria ha, né il Consiglio né l'aggiunta sono ancora operativi. L'avevamo anticipato nei giorni scorsi, adesso arriva la notizia ufficiale. E' stato convocato per domani alle 10.30 il Consiglio provinciale di Crotone. Di che cosa si parlerà? Si parlerà di bilancio, della situazione economica della provincia. Sicuramente tutti quanti ricorderete le manifestazioni di protesta che sono state messe in piedi poco prima di Natale dai lavoratori diretti alla provincia ma anche dai lavoratori della gestione dei servizi perché non si pagavano gli stipendi. Perché la tesoreria della BNL, che appunto la BNL fa da tesoreria alla provincia di Crotone, non voleva più anticipare soldi. Aveva anticipato, c'era stata un'anticipazione massima da parte della BNL di 8 milioni di euro, che è quello che prevede l'accordo e non voleva anticipare perché questi debiti continuavano ad essere presenti nel rapporto tra la banca e la provincia stessa. Sta di fatto che poi Vallone è riuscito a impegnare la regione e altri enti e quindi la BNL, con l'aiuto anche del prefetto di Crotone, la dottoressa Tirone, hanno convinto i verci di BNL a fare anche questa anticipazione. Entro domani però bisogna trovare la soluzione al bilancio dell'ente. Cioè o si suddicare il dissesto finanziario oppure si approva un bilancio percorribile, perché la situazione è drammatica. Non si è risolto il problema pagando gli stipendi arretrati, una parte degli stipendi anche a quelli della gestione dei servizi. Non si è risolto. Il problema resta per intero e dal prossimo mese di gennaio o si trovano i fondi per metterli in bilancio oppure diventerà un inverno caldo nonostante il freddo che sia ormai arrivato. Avremo un inverno molto caldo alla provincia. Domani si capirà di più. Fabio Lucente, nella sua qualità di consigliere comunale e di vicepresidente della commissione bilancio, ha posto il problema con un comunicato della situazione di disagio in cui versano i cittadini di Via Russia. Ci ha portato in Via Russia. Ecco, uno dei problemi che espone è quello della raccolta della spazzatura. Qui abbiamo le prove che in Via Russia la situazione è drammatica. Io ti ringrazio perché stamattina abbiamo l'opportunità di far vedere un po' a tutta la città questo problema di Via Russia. Io ho fatto un comunicato espressamente direttamente al sindaco perché sia per quanto riguarda l'igienico sanitario sia per questa situazione un po' imbarazzante. Questa postazione che ha creato la CREA, che ha creato il comune, non era prima qui, era più in alto di Via Russia. La postazione della raccolta dei rifiuti era prima sopra, poi piano piano l'ha fatto scendere fino a questo punto. E questo è il problema che pone. Ed è attaccata alle case. È attaccata alle case, è attaccata all'appello dell'illuminazione che come si vede è già preso fuoco e quindi si rischia di l'illuminazione pubblica salta. Passano i bambini in mezzo a questa schifezza. Quindi l'appello che voglio rivolgere è questo, che tra l'altro i cittadini avevano pure fatto, mi ricordo, una raccolta firme, poi messa archiviata. Di riportarlo più su. Allora, o più su, oppure, qua intanto bonificare, quindi capire se questa terra che è in pendenza, se è del proprietario, di fare una recinzione. Quindi con una palla pulire, potrebbero pure stare in un certo modo, magari pulire qua, farli più indietro, a file del... Cioè mettere in una... In condizioni igieniche, sanitarie, ecco la situazione. L'altra questione che pone? L'altra questione che pone sono i servizi del trasporto. Il pulma da qua non ci passa. Nella navetta... Cioè la via Russia non passano mezzi pubblici. Non passano mezzi pubblici e il romano potrebbe farli passare come... Con una navetta. Con una navetta. Difatti molti genitori abbiamo in commissione ricevuto le lamentere prima dell'anno scolastico, proprio perché il pulma di Romano non passa. Quindi sono costretti a portarli sulla strada principale, o a piedi in mezzo a questa schifezza, o con le proprie auto. E quindi a questo punto io dico, caro sindaco, se gentilmente vuoi prendere in mano questa situazione, perché altrimenti provvederemo a fare altri tipi di proteste. Non ci fermiamo. Grazie. Crotone è la città dove ognuno fa quello che vuole. Tanto nessuno parla, nessuno dice niente. Guardate come si è parcheggiato questo signore. Intanto si è parcheggiato lì dove c'è l'accesso dei disabili, poi in un incrocio. Chi viene dall'altra parte pensa che sia in fila per passare, invece poi si accorge che è fermo. Si è fermato proprio lì. E nessuno dice niente, nessuno fa niente. Dove sono i vigili urbani? Siamo a 100 metri dal comune. Dove sono i vigili urbani? Tragedia a Pettina Policastro. La tragedia si è consumata nel pomeriggio dello scorso 27 di dicembre. Due ragazzi, due giovani, uno di 16 anni, Girolamo Gentile, e l'altro di 17 anni, non ve lo diciamo come si chiama per la privacy, il primo è morto, e lo possiamo dire, Girolamo Gentile è morto, in seguito ad uno scontro che c'è stato tra due moto. I ragazzi, era festa, insomma, se ne andavano in giro, probabilmente senza casco, sono in corso accertamenti, e si è consumata la tragedia. Il paese di Pettina Policastro è da quel momento entrato in lutto. Dalla festa si è passato al lutto. Abbiamo per telefono il sindaco di Pettina Policastro, Amedeo Nicolazzi. Oggi ci saranno i funerali di Girolamo Gentile, il ragazzo di 16 anni che è morto. Allora, la situazione, pronto? Buongiorno sindaco. Buongiorno a te. Allora, la situazione a Pettina, insomma, si è passato, come dicevo prima, da una situazione di festa a una situazione di lutto. È chiaro, è chiaro che c'è una cittadinanza che è quasi sconvolta. Ha tolto un ragazzino conosciuto dalla maggioranza della città, un ragazzino vivace, ma pur sempre un ragazzino molto condoluto. È una cosa che ha lasciato sconvolti davvero. Io stesso, io stavo andando a lutto, ho visto centinaia e centinaia, non cento, centinaia, diversi centinaia di ragazzino. Tutti il paese, insomma. Tutti davanti a piangere. Allora, i ragazzi di Pettina a piangere. A piangere. I ragazzi di Pettina piangono. E ti posso dire una cosa? Anche io sono molto, molto, molto scosso. Anche i grandi piangono, insomma. I grandi piangono. Infatti, io ho interrotto subito tutte le manifestazioni pubbliche che c'erano. Oggi lei doveva tenere una conferenza stampa di fine anno. Una conferenza stampa di fine anno. C'era l'incontro con i cittadini, prima di altro. C'era il Regione di Capodanno, come si fa tradizionalmente a Pettina, organizzata in piazza. Salta tutto. Salta tutto. E la gente, in questo caso, ha applaudito questa iniziativa del sindaco di interrompere tutto. E la gente si estretta, intorno sia all'amministrazione, perché è partattiva in questo momento. Representa il dolore di tutti. Avete proclamato il lutto cittadino, Nicolazzi? No, no, non l'abbiamo fatto l'lutto cittadino. L'abbiamo programmato l'lutto cittadino, perché non c'era molto tempo. Perché fare l'lutto cittadino, poi vedete i negozi aperti, i corsi, si tiene a prendere in giro le persone. Quando l'lutto cittadino, l'ho programmato, ho fatto rispettare l'lutto cittadino. Le condizioni dell'altro ragazzo, come sono? Ha notizie? Sì, ho notizie, cerco di stare informati, sono stazionali le condizioni. Credo che erano subito degli interventi. in questo momento è tenuto sotto... Sì, perché il ragazzo soccorso immediatamente è stato trasportato dall'aile di soccorso a Catanzaro. Sì, certamente è stato così, poi è così è successo. È tenuto sotto coma controllato, fra poco l'alto anno con la bicicletta, e si aspetta poi per fare gli interventi che i medici le devono fortuna, chiaramente. In questo momento è stazionario. In questo momento è stazionario. Va bene, la ringraziamo. Ci dispiace per questo lutto che ha colpito la cittadina importante della provincia di Cotone, quale è Petire Policastro, ma ci sarebbe dispiaciuto se il lutto avesse colpito qualunque altro paese. Ma quando poco fa mi facevi quella domanda, dispiace pure a noi tutti, anche sulla solidarietà, ti dico che Petiglia è una città solidale, molto solidale, molto... E non c'è dubbio. È molto attenta a queste cose qua, ecco, dove scatarsi. Quando muore un ragazzo di 16 anni... Avete capito, dove scatarsi è il comune. E... E' tanto. Va bene. Ci dispiace. Allora, idealmente siamo presenti anche noi come tele di oggi a questo lutto. Grazie, Sindaco. Buon lavoro. Grazie a voi. Allora, la tragedia, ripeto, si è consumata il 27 pomeriggio a Petire Policastro. C'è stato uno scontro frontale. Una moto saliva, l'altra scendeva. Pare che i due ragazzi non avessero il casco. Questo è il motivo probabilmente anche dalla gravità dell'incidente. Probabilmente sarebbe stato lo stesso grave, ma col casco magari oggi non sarebbe... Petire Policastro non avrebbe pianto la morte di questo ragazzo di 16 anni. L'abbiamo avvertito anche a Crotone la scossa di terremoto, una delle scosse di terremoto, che ieri sera, intorno alle 23, hanno colpito la provincia di Cosenza. L'epicentro si trova tra Cosenza e la Sila, nella Presila, nella zona tra Celico e Spezzano della Sila, per capirci, per chi conosce quella zona. Quindi una delle scosse sono state sei in tutto, due abbastanza consistenti, la più grande, la più potente, del 4,4 grado di magnitudo, la seconda di 3,3, poi quattro scosse più leggere. Ripeto, l'abbiamo sentito anche a Crotone, la scossa che abbiamo sentito a Crotone è quella di 4,4, che è durata solo alcuni secondi, alcuni secondi, comunque nessun danno, nemmeno nella provincia di Cosenza per quanto riguarda queste scosse. La magnitudo, vi dico quale sono state la magnitudo delle scosse, 2,3, 2,2, 2,7 sono state registrate alle 22,51, quindi prima quelle più leggere, le più toste alle 22,54 e alle 23,49 invece quelle più potenti, alle 22,54 quella di 4,4 e alle 23,49 quella di 3,3. Quindi è stato localizzato dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel distretto sismico dell'Asile dell'Epicentro, ma le scosse, ripeto, sono state avvertite in tutta la Calabria. L'Epicentro si trova tra Apriliano, Casole, Celico, Pedace, Pietrafittaro, Vito, Serra, Serra Pedace, Spezzano Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, insomma, tutti quei paesi che sono tra Cosenza e l'Asila, la Presila, la Presila e Cosentina. Addirittura la gente ha dormito all'addiaccio, ha dormito fuori casa, nelle auto, è stata per strada ieri nella zona del Cosentino, nella zona dell'Epicentro, e è stata inviata anche un'ambulanza del 118 a Spezzano dell'Asila. Ripeto, per fortuna non si registrano danni né a persone né a cose.